Gentili telespettatori, buona giornata. Arriva una stangata anche sui condomini. Aumenti fino al 50% delle rate condominali. Andiamo a vedere il perché. Perché le bollette energetiche spingono tutti i costi in alto della gestione e dell'amministrazione dei condomini. Il conto è fino al 50% in più. Ricordiamoci che non c'è solo la bolletta del proprio appartamento, ma in realtà c'è anche quella del condominio. Ecco. Pertanto dalle bollette domestiche andiamo anche alle bollette condominali, ricadendo anche sui servizi di gestione e amministrazione. Aumenti che si sono già palesati nel corso degli ultimi mesi e che a partire da ottobre si faranno ancora più sensibili. Confartamministratori denuncia l'esplosione dei prezzi di tutti i servizi, partendo dal rincaro del 40% per svuotare le fosse biologiche condominali. I rincari inficiano quindi sul lavoro di tutti i professionisti che garantiscono la pulizia, l'ordine e la sicurezza di qualsiasi condominio. Abicomf, l'altra associazione che riunisce amministratori condominali, conferma che gli aumenti preventivati fino al 30-40% si sono dimostrati fin troppo ottimistici. Negli ultimi 24 mesi sono stati particolarmente delicati per i condomini più movimentati dalle clausure, dallo smart working, da chi ha perso il lavoro, chi è rimasto più tempo in casa. Ciò ha generato un aumento dei costi di manutenzione, i quali con il lievitare dei costi delle energie hanno avuto un impatto sempre più marcato sulle rate condominali. Poi l'esplosione dei prezzi si è riversata come una valanga sui condomini. Il caro Energia ha spinto tutti i fornitori di servizi e opere a rivedere verso l'altro i rispettivi tariffari. Il risultato qual è? Che le spese preventivate dagli amministratori condominali per il 2022 vanno riviste verso l'alto del 40-50% per il 2023. Si prevedono aumenti fino al 100%, quindi a finale di questo anno l'aumento raggiungerà il 50% su quello che era preventivato per quest'anno, ma nel 2023 gli aumenti sono fino al 100%. Questo significa che chi paga 1.000 euro l'anno di spese condominali nel 2023 ne pagherà 2.000 euro all'anno. E' un esempio. Intanto Confartamministratori, riferendosi a parte della Toscana, sostiene che il livello di morosità tra gli inquilini è stabile al 10-12%, ma che un progressivo aumento nei prossimi mesi non è del tutto inatteso. Le persone fanno più fatica e gli arretrati si accumulano con una certa rapidità. In alcune zone di Roma però la situazione è più grave. L'ASIAC, che è l'associazione amministratore di condominio, spiega che in alcuni condomini i fornitori hanno già staccato il gas e lascia presagire che si tratta soltanto della punta dell'iceberg. Sempre a Roma l'associazione di amministratori AIAC ha fatto sapere che gli aumenti delle spese condominali si attesteranno tra il 35 e il 40%, a patto però che gli inquilini assumano atteggiamenti virtuosi, altrimenti i rincari potrebbero essere ancora più elevati. Cioè, se non paghi ti devo alzare ancora di più. Il fatto del gas è che se voi pagate il gas, però c'è il vicino di casa che non lo paga, uno, due, tre mesi, quel gas che non paga il vicino di casa fa poi staccare il gas a tutto il condominio. Quindi voi che l'avete pagato vi trovate il gas staccato. Alcuni gestori del gas stanno chiedendo ai condomini più garanzie rispetto a quelle pattuite al momento in cui è stato concluso il contratto di fornitura. In un caso è stata chiesta una caparra supplementare di 30.000 euro. Abiconf parla persino della necessità di correggere i bilanci dei singoli condomini ricorrendo a rate straordinarie, eppur riconoscendo una diffusa elasticità dei fornitori disposti a diluire nel tempo gli incassi relativi alle prestazioni effettuate. Sottolinea che posticipare i debiti nel tempo non è mai una soluzione. Non da ultimo anche gli amministratori di condominio si trovano nella condizione di dover ritoccare verso l'alto le proprie tariffe. Quindi non solo la luce che è diventata improponibile, ma diventa improponibile anche il condominio, la rata, perché realmente sale anche quella che è la rata del condominio. Mentre per le bollette del gas, che cosa cambia da ottobre? C'è anche poi il rischio del conguaglio che vedremo nel prossimo video. Intanto vi racconto di un'altra storia. Vediamo se mi si apre. Questo lo vediamo appunto più avanti. Intanto, come dovremmo chiamare la Premier Meloni? Perché si inciampa così nella linguistica. È primo ministro o prima ministra? A volte lo stravolgimento della lingua italiana sembra un po' curioso. Vabbè che la Meloni, se la chiamate capo del governo, presidente del Consiglio, primo ministro, a lei non cambia assolutamente nulla. Totalmente e assolutamente nulla. Il problema è di chi invece vuole, per il politicamente corretto, eccetera, eccetera, trovare adesso una definizione, la prima ministra. Prima ministra. Ma è assurda come cosa. Ministro-ministra, primo-ministra. Il primo ministra, no, perché lei è la prima delle ministre, prima ministra. Vabbè, insomma. Lasciamo poi all'Accademia della Crusca capire perché dice la Premier invece che il Premier. È prima ministra e non primo ministro, dice l'Accademia della Crusca, anche se poi ha più blandemente suggerito, ma sarà lei in caso a decidere come preferisce essere chiamata. Sono sicuro che la Meloni dirà io sono il primo ministro, punto e basta, non mi rompete le scatole. Probabilmente sarà assolutamente così. Grazie a tutti per avermi ascoltato e buon proseguimento di giornata. Ci vediamo al prossimo video.